Lei ritiene che sua sorella sia ancora viva? Io veramente lo spero che tutto questo sia solo un brutto sogno, un brutto incubo. Non siamo cresciuti in una famiglia dove un fatto del genere poteva mai essere messo in conto. Mia sorella è una commercialista, una persona per bene, senza ombre. Siamo una famiglia senza ombre, una famiglia per bene. Mia sorella è una donna libera, completamente libera, che ha fatto le sue scelte di vita, di famiglia, di sposarsi, di lavoro, di stare vicino alla sua famiglia. Io credo che nessuna donna debba sentirsi obbligata a fare delle scelte. Come succede in Afghanistan, come succede in Iraq. Siamo in una terra libera. Ho grande fiducia nelle indagini che stanno conducendo gli inquirenti. Sono sicuramente grandi professionisti che stanno dalla parte giusta, che sanno fare il loro lavoro. È normale che per me un secondo, senza avere notizie, mi sembrano mille anni. Perché non ho mai avuto a che fare con queste cose, cose che non auguro a nessuno. Grazie a tutti.